Dice, principe, andiamo? Allora, l'estate, apre la porta, va tutto nel giardino, fa i bisognini. L'inverno, che fa un freddo boia, Barbara fa, principe, andiamo? Principe arriva davanti alla porta, mette il muso fuori, un freddo boia, te lo vedi che principe ritorna nel lettino. Io faccio, Barbara, forse non vuole andare, principe, in giardino. Bene, ok, chiude la porta. E lui va così, va soltanto nelle pietrine, non piace sporcare le zampe di... E certo, se l'asfalto è bagnato, le cose lì, i pietri, sì, sì. Sono proprio dei principi.